Vincere a Fornì e vincere doppio. Perdere a Fornì con questi peperini e perdere doppio. Quella fu una squadra che però seppe dare al momento giusto quello che serviva. Nella stagione regolare qualche insulto, qualche scritta, qualche vaffanculo, l'abbiamo avuto tutti. Non mi vergognavo di dire che ero tifoso. E la Gioli ha vinto! E la Gioli ha vinto! Appena toccavo la palla sapevo dove era il canestro. Mi ricordo aver fatto un tiro senza neanche guardare il canestro. Prettamente adrenalina e transagonistica. Emozioni indimenticabili. Buon amico, 150 presenze nazionali mi fai ancora queste... Emozioni indimenticabili. Emozioni indimenticabili. Emozioni indimenticabili. Emozioni indietro. Grazie a tutti